Non state assente? Non state assente? Non state assente? Dov'è giù? Non state assente? Dov'è giù? Sono due a tutti e due a lei ho! Sono due a tutti e due di loro! E non state assente! Non state assente? Dov'è giù a tutti e da me! Sono state assente? Quindi stasera ho proprio la dena che mi scambia per Napoli, abbraccio a loro, una ospitarelle per gli strumenti. Quanto siete arrabbiati? Arrabbiati? Tanto, una giornata. ma ovviamente c'è una rabbia di riscaldi, perché adesso queste cose che nascono proprio dove noi diciamo da anni, che deve essere immediatamente mangiato e velocizzato, ovviamente poi rispondiamo che nascono i tragedi che sono sicuramente brutti. Falliti, dove sono? Falliti, 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 falliti. Cosa chiedete alle istituzioni? Mi dico, chiediamo di esserci allora tutto il processo, io ho metto il genacchio, io ho metto delle vele per vivare l'unità, che ho scoperto di doppi anni, e soprattutto dobbiamo stare vicino a questa unamica, che con il dolore, diciamo, è una grande sensibilità, ma noi stiamo cercando di dire in una fine tutta tutta... Grazie mille Grazie mille Grazie.